sul quartè che sul quintè. Sono in otte, un doppio chilometro, qualitativi i cavalli di questa sesta, mezzo meccanico in movimento, Phantom, per il momento il più gettonato. Arretrato Naxos del Ronco, imitato da Olimpo, avvia la macchina in velocità. C'è lotta serrata con Ragusa, Neander e allargo Osiride. Rientra bene Neander, mi sa che vuol correre al comando Neander. Parcheggia con il grattino, Ragusa rimane nasina al vento, Osiride. Si va al completamento dei 200, in terza posizione Phantom, passati in 14 e un po' di spiccioli. Tira subito un po' e Remi imbarca il ragioniere con il suo jet e completi i 400 iniziali in 29,6. E così Neander, Ragusa, Osiride nasino al vento, Phantom e Olimpo nella scia di Osiride. 16,4 di frazione, vengono fuori 46,6 iniziali. E ora decisamente calma piatta. Viene via dalla coda anche Naxos nella scia di Olimpo. Al comando, il Neander targato jet. 1,27 il mezzo miglio, 16,6 di frazione. E viene fuori una corsa super tattica. Cavalià al completamento e chiusura del primo chilometro nell'ordine del 18,4, 15,6 di frazione. Nulla muta, nulla cambia, nulla cambia, nulla muta. con Neander a dettare i tempi a proprio piacimento. Ancora una frazione in 15,9 impiegata. Non si accendono ancora le polveri. Neander, Ragusa, Osiride, Phantom chiuso come un ergastolano. 600 finali, 14,6 di fronte. 500 alla meta. Neander al comando. Nella sua scia come da partenza Ragusa. Miglio, 2,27. Ora scappa via all'improvviso Neander. Si può liberare Phantom fra poco. nella sua scia Ragusa. Retta d'arrivo. Neander getta a lunga. Su Ragusa getti i due compagni di Paddock. Viene via Phantom. Neander al comando. Attaccato da Ragusa. Neander regge. Regge. Non c'è più tempo. Il ragioniere. Alla grande. La pennella. Stop and go. Stop and go. Alla grande il ragioniere. E questi sono i ragionieri veramente dell'Ippica. Uno stop and go prolungato. Veramente da manuale. Da cineteca. Uno stop da incorniciare. Secondo, un'ottima Ragusa che fa l'implein di Paddock. E terzo, un Phantom che ha potuto correre solo in dirittura. Purtroppo si è dovuto accontentare.